La medaglia d'oro Etichetta nera. Chi sceglie la qualità merita l'oro. La medaglia d'oro. Veste la vita. Intorno a te c'è tutto un mondo che vive, una natura che ha voglia di stare con te. In questa natura, nascosto nel cuore del mais, un olio di semi buono e leggero. Olio dietetico cuore. Il mais ha il cuore buono. Olio cuore. Mangiar bene per sentirsi in forma. Manufat. Maglierie Manufat. In seta, lana e filo scozi. E adesso è il pieno. Certo, è la sicurezza di poter scegliere il meglio. Con l'olio, sì, ma anche con la cura di tutto quello che ti fa viaggiare più sicuramente. Ah, Monteschel. Sicuro, è Monteschel. Sono io, Coccolino, con una sorpresa. Coccolino detersivo liquido. Coccolino per lana e delicati lava con dolcezza tutto ciò che ami, a mano e in lavatrice. Un amore di pulito. La seta brilla, il cotone pulito. La lana è splendente e anche le tende. Con Coccolino detersivo ciò che ami rinasce come nuovo. Perché io lavo con amore. Nuovo Coccolino detersivo per lana e delicati. Un amore di pulito. Io piaccio Io piaccio Io piaccio Amaretto di Saronno E tutti ci provano gusto Ti piacerebbe vincere un viaggio con la tua famiglia nei parchi americani? Oggi puoi con il grande concorso Shampoo Natura Dolce Io piaccio Chi paul